Il Paglio dei Rioni 2018 è arrivato alle battute finali. Dopo tre serate adrenaliniche di giochi è quasi arrivato il momento di assegnare il cencio che sabato sera decreta il rione vincitore della 28esima edizione. Le ultime sfide sono determinanti per la classifica finale e gli atleti in gara sono pronti a mettere il massimo impegno e tutta la forma fisica per dare il meglio per il proprio rione. La serata di venerdì allo stadio comunale di Camaiore, come sempre tutto esaurito, ha visto i 14 rioni sfidarsi all'ultimo respiro. A partire dall'attesissimo palo della Cuccagna, a spuntarla è stato il rione Nocchi, seguito dalla Rocca e dalla Pieve. Altra sfida davvero da Cardiopalma, quella dello Staffettone, una catena di giochi da restare senza fiato. Primo posto del podio per Vado, secondo per Ponte Mazzori e terzo per Nocchi. La sfida più attesa resta comunque quella del tiro alla fune. Le qualificazioni hanno visto prevalere nel girone A la Rocca e nel B il Ponte Mazzori. Secondo il Treborghi, che resta però il rione da battere, vincitore delle ultime due edizioni, potrà schierare il jolly. Nella classifica generale, alla vigilia della finale, è il Ponte Mazzori il primo, con netto distacco sugli inseguitori, Pieve e Nocchi. Ma tutto può cambiare all'ultimo. Comunque Vada, e che vinca il migliore, ha già vinto il Palio, una grandiosa festa di colori e partecipazione, che ogni anno coinvolge sempre di più tutte le famiglie camaioresi, dai grandi ai più piccoli, coi bambini cresciuti e allenati a scuola di Palio, a cui il comitato organizzatore guarda con fiducia per il futuro della manifestazione.